TG Sicilia Il nostro urso dopo 11 anni nessun piano di ammodernamento per Confindustria Catania disagi non più tollerabili. Nelle prossime ore è prevista l'apertura di un terminal aggiuntivo che aumenta i voli. Alla mia età nessuno mi farà lavorare, ancora testimonianze della rabbia e della preoccupazione di chi deve rinunciare all'arreddito di cittadinanza. Livelli di diossina sotto analisi a Palermo dopo il rogo alla discarica, nuovi incendi tra i rifiuti in città da Borgo Nuovo alla Zisa. Alla Corte dei Conti dà il via libera al piano di riequilibrio per il comune di Messina. La città potrà ora disporre delle risorse necessarie per sistemare le strade e costruire nuovi impianti sportivi. Calcio Mercato a Palermo arriva a un'altra punta e il Cileno Valencia, il Catania che sui social ha presentato la nuova maglia, entro fine settimana chiuderà per portiere e attaccante. Dunque è ancora in primo piano l'emergenza all'aeroporto di Catania, dopo la nota del sindaco di Catania Trantino che punta il dito sulla SAC, la società che gestisce lo scalo catanese interviene il senatore di Fratelli d'Italia Pogliese, gravi le lacune nella gestione dell'emergenza. E arriva anche la fondo del ministro delle imprese URSS, Roberta Lunghi. Ci sono state oggettive lacune nella gestione dell'emergenza. Gli spettacoli a cui abbiamo assistito sono stati certamente indegni all'interno di un contesto quale quell'aeroporto di Catania, che è il quinto aeroporto in Italia con 10 milioni di passeggeri. Non lasciano spazio a fraintendimenti le parole del senatore di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese, coordinatore regionale del partito, in un coro unanime che arriva tramite una nota del sindaco di Catania Enrico Trantino, congiuntamente ai parlamentari siciliani di Camera e Senato, del gruppo Allars di Fratelli d'Italia e ai coordinamenti regionali e provinciali del partito nella Sicilia orientale. Nel documento si punta il dito sulla gestione dell'aeroporto di Catania da parte di SAC, rivelatasi, si legge, carente nell'emergenza nella programmazione di interventi strutturali necessari, così come per i danni considerati incalcolabili. I danni sono stati enormi sia nell'immediato sia in prospettiva futura anche dal punto di vista reputazionale. Le responsabilità dovranno essere attribuite anche successivamente alle inchieste che sono in questo momento in corso. E proprio per i danni il sindaco di Catania Trantino chiede al governo misure straordinarie, come ristori, differimento di scadenze fiscali, moratoria di bollette, accesso al credito agevolato. Nella giornata si unisce anche la netta presa di posizione di Confindustria Catania, che descrive come un calvario senza fine quello vissuto dai passeggeri e parla in una nota di un grave danno di immagine per la città, proprio nell'anno in cui il sistema turistico si preparava a registrare il tutto esaurito. Per gli industriali etnei occorre un intervento politico-istituzionale risolutivo e deciso per garantire un ritorno alla piena operatività. E proprio dalla politica arriva la constatazione del ministro delle imprese Urso che evidenzia come in 11 anni non esista un progetto di ammodernamento dello scalo approvato da Enac. Irragionevole per il ministro Catanese che il sistema aeroportuale della città debba soffrire di un tale deficit infrastrutturale, che lo rende non solo fragile, come l'incendio ha dimostrato, ma progressivamente inadeguato. E' pronto il terminal temporaneo a Fontana Rossa che da domani permetterà di aumentare i voli su Catania da 10 a 14 l'ora. 17 giorni dopo l'incendio continuano i disagi tra i passeggeri esasperati. Domani il presidente Schifani sarà a Catania per un sopralluogo al terminal A. Sentiamo. Dietro il telone bianco che vedete nelle immagini si cela l'imbocco di collegamento con il terminal aggiuntivo realizzato da SAC in collaborazione con l'aeronautica militare che dalla mezzanotte di oggi diventerà operativo. Traducendo i numeri la struttura consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora a 14 ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze. Ma nel crono programma del 2 agosto c'era anche la conclusione dei lavori di bonifica del terminal A. Cosa avvenuta? E che adesso lascia spazio alla domanda su quando il terminal potrà riaprire. La data ufficiale non c'è ancora, ma dalla nota di SAC che parla dei primi giorni della settimana prossima a ottenimento delle autorizzazioni necessarie combinata all'osservazione dell'ultimo carico di merce, giornali e riviste che è stato estratto dal terminal adesso soggetto alla pulizia complessiva prima dell'ingresso di nuova merce e di prodotti da ristoro la percezione è che manchi poco per il ritorno alla normalità. Il diciassettesimo giorno di disagi, di voli dirottati, cancellati, di attese in luoghi approntati per fare fronte all'emergenza ma non esattamente confortevoli è trascorso nello scalo catanese in un misto di consapevolezza, rassegnazione e qualche timore. Quante ore prima è arrivata? Sia prestissima Ma perché? Perché aveva paura vista la situazione? Sì, paura, sì, perché non sapevo se potevo andare o potevo ritornare di nuovo a Comiso Cerco di essere positivo, di guardare sempre meglio e che la situazione migliore al più presto non pensavo però che una situazione del genere durasse più di 20 giorni È una situazione da pazzi, sembra che non abbiano capito cosa fare Domani intanto nuova visita del presidente della regione siciliana Schifani all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Il governatore insieme al presidente nazionale dell'ENAC, Pierluigi Di Palma e all'amministratore delegato di SAC, Nicotorrisi, effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal A Non ci possono lasciare così, ci devono dare qualcosa Nuove testimonianze di rabbia e paura per il futuro dopo lo stop al reddito di cittadinanza Simona Mazzone Ma quella figlia ha una vita deditosa e la deve dare, no? Quanti anni ha sua figlia? La mia figlia ha 18 anni ma è ancora a scuola Lei è Elena, a 50 anni, originaria della Romania Vive a Catania da 25 anni con la figlia 18enne che deve frequentare l'ultimo anno delle superiori Il reddito di cittadinanza era il suo unico sostentamento economico per coprire affitto, bollette e per dare una vita dignitosa a sé e alla figlia Anche lei, come altre 169 mila persone in Italia, ha ricevuto quell'SMS dell'Inps che annunciava la sospensione del sussidio E adesso, si chiede, il lavoro a questa età chi me lo offre? La mia età, che non è neanche, diciamo, da 50 anni non ti prendono ormai neanche per le pulizie si cercano più Eppure Elena un lavoro lo vuole ma non è riuscita a trovarlo in questa città che nonostante tutto lei ama profondamente Io non sono una che mi butta giù Voglio lavorare, ho sempre voluto lavorare ma nessuno ti mette neanche in regola lavorando un giorno qua, un giorno là Ma lei si sente più arrabbiata, presa in giro? Cosa sente? Mi sento arrabbiata perché dice, vabbè, te lo tolgono ma ti devono dare qualche cosa non ti possono lasciare così Quando si sentono queste storie si capisce ancora di più come queste siano persone, non numeri Realmente quei numeri sono persone, sono storie, sono esperienze che dimostrano che a volte non è possibile in qualche modo fare la lotta contro la povertà diventa poi una lotta contro i poveri e ci sono veramente esperienze e persone che da oggi non sapranno più come andare a gestire la loro vita A dieci anni dall'abolizione delle province trasformate in liberi consorsi e commissariate la Sicilia compie il primo passo per la loro reintroduzione La Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Siciliana ha approvato il disegno di legge che le prevede Adesso il testo dovrà passare al vaio dell'aula dopo la pausa estiva E torniamo a parlare della sparatoria in via Santa Maria dalla catena a Catania Uno degli autori, un 22enne vicino al clan dei Cursoti si è costituito, l'altro è stato fermato a Mascaluccia E a Palermo continua a tenere banco l'emergenza alla discarica di Bellolampo Intanto in città continuano i roghi di Cassonetti soprattutto in periferia Vediamo Prima il sopralluogo della Commissione regionale antimafia direttamente a Bellolampo poi un vertice in prefettura che avrà come tema principale la quantità di diossina nei terreni vicini alla discarica dopo l'incendio alla Quarta Vasca Sarà una giornata decisamente importante quella di domani a Palermo sull'emergenza a Bellolampo Intanto in città continuano gli incendi di immondizia i roghi sono stati appiccati e la spazzatura è rimasta accatastata fuori dai Cassonetti in diversi quartieri di Palermo come Borgo Nuovo, Zise e Violeto Qui siamo invece allo Zen le immagini sono sempre le stesse ormai da mesi Incendi anche in via Messina Marine La situazione della raccolta resta critica dopo l'emergenza nella discarica di Bellolampo a seguito dell'incendio della Quarta Vasca Molti quartieri di Palermo sono invasi dai rifiuti e la raccolta va a rilento Estate è ormai sinonimo anche di emergenza immondizia A Bellolampo operai e anche ditte esterne lavorano giorno e notte per soffocare gli ultimi focolai del vasto incendio che ha colpito la Quarta Vasca e il sindaco Lagalla ha annunciato che fornirà alla magistratura le immagini del rogo dei giorni scorsi che ha provocato la diossina Nelle ultime ore le fiamme hanno interessato anche altre parti della Sicilia A Enne e Vulcano i vigili del fuoco prima di avere la meglio sulle fiamme sono stati impegnati a lungo E parliamo ancora di incendi Canadair in azione nelle Madonie nel Palermitano Un rogo è divampato pure nel costone roccioso di Polizie Gemerosa A Vulcano due turisti in vacanza sono stati denunciati per aver rappiccato le fiamme che il 27 luglio hanno distrutto decine di ettari di macchia mediterranea Nella lotta contro gli incendi scendono in campo anche i droni A femmina morta sono stati utilizzati dai carabinieri della Polizia Forestale di Catania Il cantiere abbandonato che sorge di fronte il commissariato di Polizia di Gela verrà bonificato dopo quasi 15 anni di degrado L'ecomostro diventato una palude si era trasformato in una vera e propria bomba ecologica Gerritali L'ecomostro che svetta di fronte il commissariato di Polizia di Gela verrà bonificato arriva a distanza di quasi 10 anni dall'ultimo intervento l'ordinanza del comune per ripulire e mettere in sicurezza l'area Il rudere era diventato ormai un pezzo del paesaggio non certo esaltante della via Venezia la tangenziale gelese uno dei tanti scheletri in cemento armato a cui l'occhio fa l'abitudine dopo un po' di tempo ma ciò che resta del cantiere dal quale sarebbe dovuto sorgere un piccolo centro commerciale si è ormai trasformato in una bomba ecologica Un piccolo ritaglio di foresta pluviale una vera e propria palude nel cuore di via Venezia a pochi passi dal commissariato di via Calogero-Zucchetto Migliaia di metri quadri ricoperti da acqua stagnante in alcuni punti profonda anche metri nella quale si è sviluppato un vero e proprio ecosistema a sé stante con animali e parassiti che prosperano al suo interno durante tutto l'anno una bomba ecologica sulla quale intervenire con urgenza prima che crei ulteriori danni Abbiamo intimato all'amministratore giudiziario di intervenire immediatamente per risolvere quei problemi di natura igienico-sanitaria di rimuovere tutte le erbacce insomma di bonificare e sanificare tutta quella zona Chiaramente in 30 giorni i vigili sono chiamati a controllare il rispetto di questa ordinanza e dopodiché se non dovesse intervenire ma io suppongo che interverrà l'amministratore giudiziario ci saranno gli atti conseguenziali Scaduti i 30 giorni previsti dall'ordinanza sarà il Comune stesso a provvedere addebitando i costi alla ditta Messina fuori dalla crisi economica Ok dalla Corte dei Conti al piano di riequilibrio dalla sistemazione delle strade ai nuovi impianti sportivi il Comune potrà finalmente disporre dei fondi necessari Francesco Triolo Si chiude un ciclo inizia una nuova fase per il Comune di Messina l'ok della Corte dei Conti al piano di riequilibrio consentirà a Palazzo Zanc adesso di poter agire senza i vincoli del predissesto non una roba da poco per un ente che ha potuto operare negli ultimi anni solo ricorrendo ai fondi extra bilancio senza poter contare sul sostegno dello Stato Si sono fatte delle scelte anche in Popolari si sono fatte delle scelte nette si è fatta una scelta quella di prendere in mano il piano di riequilibrio e di saperlo gestire sicuramente l'abbattimento della massa debitoria ma non solo l'abbattimento anche il pagamento della massa debitoria Il Comune potrà muoversi più liberamente slegando quei vincoli finanziari che finora l'hanno costretto a ricorrere ai fondi extra bilancio per qualunque investimento un esempio Messina potrà tornare a trattare con cassa, depositi e prestiti per avere finanziamenti utili a qualsiasi attività dalla sistemazione degli impianti sportivi alle strade Gli investimenti non c'è più il rischio di subire questo provvedimento io ritengo però che sia arrivato anche il momento che la Giunta Basile pensi anche a ridurre le tasse che sono al massimo Dico siamo contenti soprattutto per la città perché andare in dissesto sappiamo tutti cosa poteva succedere oltre già che le tasse sono al massimo non si potevano effettuare tutti i vari appalti tutte le cose che stanno portando avanti la città Ad aiutare il Comune a venire fuori più rapidamente dal dissesto a questo punto con il piano di riequilibrio arriveranno 36 milioni di euro della seconda tranche di aiuti che lo Stato riserva con un fondo di rotazione tarato sulla popolazione residente e comuni che vogliono rientrare dal debito Secondo l'ultima fotografia presentata alla Corte dei Conti quella del 30 giugno la massa debitoria censita compresa quella potenziale è scesa a 74 milioni di euro partendo dai 550 milioni che Cateno De Luca annunciò nel 2019 forse anche per forzare la mano come poi ammise con i creditori considerata la forte riduzione della massa debitoria l'obiettivo di Basile è adesso quello di chiudere la procedura entro la fine del suo mandato secondo il sindaco i presupposti per farlo ci sono tutti Ha rotto le acque in circa 10 minuti ha messo al mondo il bambino c'è stata la mano di Dio e tutto è andato bene lo racconta il medico che ha fatto nascere il figlio di una subsariana ventenne ospite del centro di accoglienza di Contrada a Ciavarotta ad Agrigento era arrivata pochi giorni fa da sola sbarcando a Lampedusa i rapporti di vicinato non sempre sono idilliaci in qualche caso possono diventare anche molto complicati è successo a Palermo dove madre e figlio di 83 e 57 anni hanno reso la vita impossibile a una coppia e ai loro due figli rei di avere iniziato dei lavori edile nella loro abitazione i due sono stati condannati per stalking a tre anni di reclusione noi ci fermiamo per una breve pausa torniamo tra pochissimo con lo sport Bentornati siamo al calcio ritiro carichi di lavoro che aumentano e altro innesto per il Palermo che fatica in attesa dell'esordio stagionale preso anche il giovane attaccante Diego Valencia Marco Gullà se il Palermo continua a faticare a Pinzolo in attesa dell'inizio della stagione ufficiale la dirigenza Rosanero prova ad alzare il livello di qualità della Rosa è chiusa la trattativa per Diego Valencia il giocatore ha già lasciato il ritiro della Salernitana e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche è probabile che l'attaccante arrivi già a Pinzolo ma il percorso per formalizzare l'accordo è lungo e quindi l'ufficialità potrebbe arrivare dopo il 4 agosto l'arrivo di Valencia aggiunge un tassello all'attacco il cileno è un under quindi non occupa un posto nella lista principale e può giocare sia da prima punta che da esterno il suo arrivo comunque non esclude l'ingaggio di un altro esterno offensivo che potrebbe essere Rigoberto Rivas della Regina il Palermo è concentrato anche a rinforzare centrocampo e difesa prossimamente dovrebbero arrivare novità sul caso Regina quindi potrebbe sbloccarsi l'arrivo di Gianluca dichiara per la faccia sinistra della difesa l'altra opzione Niccolò Corrado ma la Ternana vuole continuare a puntare su di lui e chiede tanto per il trasferimento intanto dopo l'infortunio il Palermo ritrova Francesco Di Mariano sto bene sto recuperando semplicemente stiamo gestendo i carichi per evitare ricadute quindi il mio recupero sta procedendo alla grande spero di sto lavorando per cercare di essere pronto a disposizione per la partita di Coppa Italia Coppa Italia che sarà il 12 agosto rosanero di scena Cagliari in attesa di definire gli ultimi colpi di mercato il Catania presenta sui canali social del club la prima maglia della stagione 2023-2024 il Messina punta ad almeno 4 profili per rendere competitivo l'organico Marco Carli la nuova maglia strisce rossazzurre d'ordinanza ma più strette e i simboli di Catania dall'elefante al mare fino allo stadio con le nuove poltroncine rossazzurre e poi sulla metro con Rapisarda testimonial il club di Pelligra presenta la sua nuova prima maglia direttamente sui social ed è un richiamo per il pubblico prima di desiderarla immaginala con noi si legge sarà la divisa della squadra che è torrata fra i professionisti e che è pronta a finire sulle spalle anche dei nuovi acquisti che arriveranno mentre la squadra continua a lavorare a Zafferano il DS Laneri si concentra sul mercato sono quattro le pedine decisive il portiere due difensori centrale l'attaccante il resto l'attaccante esterno giovane e forse un altro centrocampista verrà dopo per l'estremo difensore sono tanti i nomi seguiti da Dini a De Lucia da Furlan a Livieri a breve si scioglieranno le riserve il mercato DC è complicato anche dalla questione ricorsi con tante squadre in ballo l'essere più o meno ammessi ad un campionato piuttosto che ad un altro può definire i destini di alcuni giocatori che potrebbero essere liberati ecco perché il Catania aspetta ma non lo farà all'infinito portiere attaccante con Di Carmine fra i nomi seguiti dovrebbero essere definiti nelle prossime ore in difesa la trattativa per Quaini è ferma il Catania ha fatto un'offerta da cui non deroga il Fiorenzuola aspetta un altro passo che a questo punto non si sa se arriverà dal Catania al Messina preso l'esterno sinistro di difesa il giovane Lorenzo Tropea in prestito dall'Empoli mancano almeno un difensore centrale due centrocampisti e un attaccante Toncarà ex Avellino valuta l'offerta dei messinesi che chiederanno di cominciare in trasferta il campionato va rifatto il Prato del San Filippo soprattutto per garantire il drenaggio e non si poteva intervenire fino agli ultimi concerti che si sono svolti allo stadio nel mese di luglio e per stasera ci fermiamo grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti